Va ora in onda, pianeta oggi e venti nel mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20 e 30 su Radio Piper. Ben ritrovati al nostro consueto settimanale di approfondimento, dunque sempre più rumori di guerra ci provengono dall'estero. Vediamo di fare un po' l'appunto della situazione con Marco Grilli del Movimento Alternativa Politico. Il sottoscritto l'ha avvicinato. Sentiamo. State ascoltando Pianeta Oggi e venti nel mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In diretta solo su Radio Piper. Marco Grilli, e dunque dopo un po' di tempo mi fa piacere rivederti. Allora so che tu hai un occhio di attenzione su quello che accade in questo mondo, che più volte l'abbiamo ricordato da questi microfoni, molto martoriato, un decadimento dei valori. Adesso ci sono anche rumori di guerra a livello internazionale. In sintesi, secondo te, dove sta andando questo pianeta oggi? Allora, non dovrei essere catastrofista, però vista la situazione generale, a meno che non ci si dia tutti quanti insieme una regolata piuttosto brusca, direi che la direzione sia quella dell'autodistruzione. Proprio in questo momento sta andando in diretta una trasmissione di Pandora TV che riguarda per l'appunto gli risvolti del nuovo vertice di Taormina, per il quale chiaramente sono stati mossi i mari e i monti, si sono mosse organizzazioni politiche e non, ma soprattutto stiamo osservando una trasversalità di intenti tra le forze di popolazione, quindi di popolo non di partito. Anche perché, come al solito, siamo di fronte all'egemonia degli Stati Uniti che la fanno da padroni e dettano, ovviamente, le condizioni. Per cui abbiamo individuato un nuovo demonio mondiale che è la Russia, abbiamo i Santi di turno che sono i membri della Nato e i paesi maggiormente industrializzati, stiamo assistendo a un allargamento della Nato progressivamente maggiore verso la parte della Russia. Questo perché? Perché ovviamente ci deve essere una sorta di, intanto, offensiva geofisica nei confronti del nemico numero uno della democrazia, per come la vedono i più. Se non fosse che all'interno della Nato abbiamo le ultime adesioni, è stato il 29esimo paese, è stato il Montenegro, che tra le altre cose è governato da persone di dubbio moralità legale e quindi si sta creando una sorta di pressing nei confronti della Russia, oltre che di altri nemici giurati individuati dagli Stati Uniti, quali ad esempio l'Iran e altre realtà, quale ad esempio prossimamente sarà anche probabilmente la Cina. La Corea del Nord è semplicemente uno slogan utilizzabile per poter avanzare delle provocazioni per potersi spostare da quella parte. Quindi direi che la situazione sia molto più grave di quanto non lasciano pensare le cronache. Anche tutto il discorso legato agli sbarchi, alle immigrazioni, tutto ciò che sta venendo fuori anche all'interno del nostro territorio italiano per quanto riguarda il malaffare che si cela dietro agli arrivi dei migranti, fa pensare che la situazione sia in grande degenerazione. Vorrei fare menzione a una cosa in particolare degli ultimi giorni, l'approvazione del decreto Lorenzin per quanto riguarda la vaccinazione dei minori. Siamo passati naturalmente dall'estero all'interno, c'è un po' di... c'è un salto, un po' un salto, no? Ma voglio dire, volevo un attimino rimanere sul discorso degli immigranti che stanno praticamente andando a fondo, perché anche ultimamente abbiamo sentito di incidenti gravissimi. Ma com'è possibile non intercettare questi delinquenti che costringono sta gente a saltare, a imbarcarsi su barche, barchette, diciamo barchette per non dire di peggio? Allora, mi si è permesso una leggerissima digressione. Siamo ancora vicini all'ennesimo anniversario della strage di Capaci. Perché faccio espressa menzione a questa cosa? Perché, come al solito, dovremmo porci una domanda. Se le cose vanno in una certa direzione è perché non ci sono i mezzi effettivamente per contrastare, in questo caso, le immigrazioni? O, semplicemente, fa comodo a qualcuno che le cose vadano in una certa direzione? Cioè non possiamo prevenire o combattere efficacemente questi fenomeni semplicemente perché non c'è la reale volontà di combatterli. Non posso credere che non abbiamo i mezzi, visto che tra le altre cose viene anche incrementata la spesa militare, si stanno finanziando missioni all'estero che dovrebbero essere di pace, ma che sono di guerra sotto mentite spoglie, si stanno spendendo soldi per riarmare le forze armate, soprattutto quelle aerei. E qua leggiamo anche tutta la parte che riguarda l'addestramento dei piloti dell'aeronautica italiana sui cacciabombardieri che saranno dotabili delle nuove bombe nucleari B61-12 attualmente in modifica dagli Stati Uniti. Quindi il nostro ambiente è sempre più in pericolo, mi sa a me. È in pericolo assolutamente l'ambiente, inteso proprio come ambiente, cioè natura, ma prima ancora... Diciamo la nostra casa. Diciamo proprio di sì. È proprio la nostra essenza che è in pericolo, perché ormai ci siamo talmente snaturati e ci siamo anche come italiani per la verità anche un po' svenduti, neanche tanto un po'. Ci siamo svenduti in maniera abbastanza importante agli Stati Uniti e ad altri generi di accordi che non ci è dato di conoscere fino in fondo. Parliamo spesso, abbiamo parlato anche insieme in trasmissioni della Nato, ma è un'entità che ben pochi conoscono fino in fondo. Noi stessi che comunque facciamo ricerca per capire meglio di chi stiamo parlando, per poter approfondire la conoscenza e per poter sapere meglio, spiegare agli altri di quale fenomeno, di che entità stiamo parlando, abbiamo notato nel corso di interviste fatte anche oggi pomeriggio, la popolazione non conosce nel dettaglio il fenomeno nato, perché non si può parlare semplicemente di un patto o di un trattato nordatlantico, bisogna parlare di un fenomeno, che è un fenomeno che assume i contorni della porta ervia, cioè sostanzialmente della voglia offensiva. Torniamo a fare menzione del cambiamento dell'articolo 5 del trattato nato, che era partito come strumento di difesa e si sta trasformando in uno strumento di offesa in tutti i sensi. Torno a ripetere, dapprima dal punto di vista geofisico, è un domani che ho paura non sarà neanche troppo lontano, è la cosa che dobbiamo tutti unirci per scongiurare, anche dal punto di vista militare. Radio Piper Ecco, a proposito di militare, di Nato, di interventi, ne abbiamo visti in questi ultimi anni. Ecco, qui entrono in gioco anche i giornalisti delle tv nazionali, dove dicevano, beh, ma giustifichiamo, sì, questi interventi ci vogliono, perché così, ad esempio, in Iraq esportiamo la democrazia. È meglio adesso l'Iraq o è meglio prima con Saddam Hussein? Non certo che a Rose Fiore prima con quel dittatore, ma adesso è migliorata la cosa? Io ho visto che dovunque si sia intervenuti militarmente a fare operazioni di cosiddetto peacekeeping, le cose non solo non sono migliorate, sono addirittura maggiormente destabilizzate. Cosa vuol dire questo? Questa è un'osservazione assolutamente oggettiva, perché poi basta andare a contattare coloro i quali effettivamente sono all'interno dei paesi coinvolti per accorgersi che tutta questa miglioria non c'è stata. Vogliamo fare un esempio per traslato? Il recentissimo, stiamo parlando di giorni, ormai è ancora fresca la cosa, l'attentato a Manchester durante il concerto, ad opera, a quanto pare, di un kamikaze libico giovanissimo. Ecco, tu cosa ne pensi di questo attentato? Onestamente... L'ennesimo attentato. Onestamente ho ancora pochi elementi a mia disposizione, perché non ho potuto fare una ricerca ancora estesissima. Pare siano coinvolti il fratello e anche il padre, che il giovane si sia radicalizzato, come si suol dire adesso, nell'ultimo periodo, quindi abbia fatto diversi viaggi, anche per organizzare l'attentato stesso, che sia spalleggiato dall'Isis, che ha rivendicato praticamente, contestualmente, l'attentato, e che quindi non ci sia dubbia natura sulla cosa, che quindi non si sia trattato di un lupo solitario, ma di una cosa organizzata, e che quindi l'Isis, in un modo o in un altro, stia cercando, se non di riformarsi, quantomeno di non perdere ulteriore terreno. Però l'Isis è una creatura, fondamentalmente anche questa, torno a ripetere il termine, geopolitica. E' una creatura di comodo. Non è che esistesse dapprima. E' stata creata all'uopo di fomentare disordine. E infatti viene, diciamo, abbattuta o sconfitta, e poi, diciamo, riportata agli onori della cronaca, a seconda del momento politico particolare che attraversa l'uno o l'altro paese. Abbiamo visto cosa è successo in Francia, durante il periodo delle elezioni. Abbiamo visto che cosa sta succedendo in Inghilterra adesso, dove un governo è caduto abbastanza recentemente, se ne è formato un altro, che ha alla guida una donna che, a quanto pare, vuole ricalcare, ma non nel senso buono, le orme della Lady di Ferro. Stiamo vedendo, come dire, la situazione italiana, dal punto di vista degli sbarchi e di questo tipo di attacco alla democrazia, dove, tra le altre cose, per cui l'ho fatto la menzione al discorso dei vaccini, perché non possiamo più dare per scontato che non solo i diritti che abbiamo vengano mantenuti invariati. Siamo reduci dall'attacco alla Costituzione italiana, che è stato debellato, se Dio vuole, grazie al referendum, che doveva essere un punto di forza del governo Renzi ed è stata la sua distruzione. Ma, a quanto pare, l'opera non è ancora finita. La destabilizzazione è ancora in corso. Stiamo vedendo adesso cosa accade negli Stati Uniti nell'immediato post-elezioni, dove un Presidente è stato eletto comunque democraticamente. Non sta bene, a quanto pare, alla maggior parte della popolazione. Non si capisce a questo punto come abbia fatto ad essere eletto. Non entriamo nei sofismi del meccanismo grandi elettori e, diciamo, piccoli elettori, ma non si capisce come Trump faccia stare lì dove sta, visto che tutti lo avversano, che nessuno lo ha votato. Allora, a questo punto c'è da porsi una domanda. Chi lo ha votato? E soprattutto come ha fatto ad arrivare lì? E ancora, è stato tutto un teatrino quello delle elezioni americane? Riprendiamo da studio. Ringrazio Marco Grilli per queste spiegazioni, per queste riflessioni. Grazie anche a voi che ci avete seguito. prossimo appuntamento con il nostro settimanale di approfondimento previsto per la prossima settimana sempre ai medesimi orari. Buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi eventi nel mondo a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20 e 30 su Radio Piper. a cura di Massimo Bonella a cura di Massimo Bonella a cura di Massimo Bonella